Eccoci anche alla pagina sportiva che apriamo con una notizia di basket, la estrapistoia. Anche quest'anno sarà presente al trofeo Lovari di Lucca. Giunto alla nona edizione, il 14 ed il 15 di settembre, al Palatagliate, la formazione bianco-rossa troverà tre squadre che saranno avversare nel prossimo campionato di Serie A, Venezia, Tortona e Napoli. Quindi già un bel banco di prova per la formazione di vedremo chi sarà l'allenatore. Per quanto riguarda invece la Serie B nazionale, più precisamente le giovanili, il progetto della FABO Erons Montecatini sul progetto giovane con Presidente Severi. Vi diamo il servizio di Alberto Camboli. La Valdinevole investe sul basket e lo fa con un progetto veicolato da uno dei due club di Montecatini, la FABO Erons, che prende il nome di Erons Young. Montecatini Terme Junior, Masse Cozzile, Cestistica Pescia, Nico Basket Femminile e Mini Basket Montecatini hanno stipulato un accordo di sei anni con l'obiettivo di investire sui giovani e creare i talenti per il futuro. Presidente del progetto sarà Stefano Severi e Fabio Landini vestire i panni di coordinatore organizzativo. Il fatto di riuscire a mettere insieme cinque società del territorio che da anni lavorano in maniera autonoma sotto un cappello Erons significa riuscire a traguardare questo progetto ad ambizioni più grandi. L'ambizione è quella di riuscire a coinvolgere tutti i praticanti del territorio, praticamente ragazzi e ragazze, in modo tale da poterle permettere di poter guardare al basket con un rinnovato ottimismo e con la possibilità veramente di realizzare i propri sogni. Già da quest'anno verranno formate quattro squadre che parteciperanno ai campionati gold, per cui già si è fatto un lavoro di formazione di queste quattro squadre, ma mi piace sottolineare che comunque i ragazzi che non fanno parte di queste quattro squadre avranno la stessa cura tecnica, avranno la stessa attenzione da parte degli allenatori. La testa dal punto di vista tecnico sarà invece il vice allenatore della FABO, Alessio Marchini. A lui il compito dopo l'esperienza maturata a Trento e i primi passi mossi dentro la società termale di prendere le redini del progetto, Erons Young. Negli ultimi anni c'è stata meno attenzione per lo sviluppo del talento dei giocatori, troppa attenzione per come far giocare la squadra. Secondo me noi dobbiamo essere più bravi a lavorare sui singoli, a dare a ognuno un proprio percorso di crescita e meno a pensare a giocare organizzati, perché solo sviluppando il talento individuale, anche a discapito di qualche vittoria, secondo me si può crescere. Passiamo sull'altra sponda termale, la Gemma Basket Montecatini ha confermato il capitano Nicola Savoldelli che giocherà per la terza stagione consecutiva con il rosso-blu Savoldelli che lo scorso anno ha chiuso il campionato con 9,5 punti di media e 4 assist in 26 minuti sul parquet. E allo stesso tempo la società ha comunicato che non farà più parte del roste il ventenne Lorenzo Dell'Anna. E prima conferma anche per la Nico Basket femminile che ha rinnovato il contratto ad Alice Montiani che per il terzo anno consecutivo vestirà la maglia rosa-blu. Tre sono stati titoli di campionesse nazionali e una di vice campionessa conquistata campionata italiana i Wispi di pattinaggio artistico 2024 dalle portacolori dell'Accademia alla Fenice Pattinaggio Quarrata con Irene Fratoni, Marta Fema e Chiara Nicolai. Ciliegina sulla torta per atleti e dirigenti, i graditissimi inaspettati auguri pervenuti loro direttamente dal presidente della regione Eugenio Gianni che ha omaggiato la società con una lettera e il regalo della bandiera della regione toscana, come vedete nella foto. E ricordiamo questa sera l'appuntamento con Sport d'estate e fra pochissimo la trasmissione sportiva nel periodo più caldo dell'anno parleremo di Pistoiese con la presentazione dell'allenatore Domenico Giacomarro avvenuta ieri, ci saranno delle interviste non solo a lui ma anche al presidente Iorio, a Taibi e quindi un servizio completo su questa presentazione e dopo un ospite avremo Daniele Sorbello che è il preparatore atletico della Pistoiese lo abbiamo saputo proprio ieri ma l'avevamo chiamato per un altro motivo e poi un approfondimento proprio sul servizio che abbiamo visto questa sera sugli Aarons Basket Montecatini con questo è tutto, restituisco la linea al TG per le ultimissime e una buona serata. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!